Dante, pop e rock. Questo è il titolo della lezione spettacolo tenutasi a trani dal professor Trifone Gargano per dimostrare che Dante è una presenza attiva anche oggi. Sentiamo. Dante è una presenza attiva nella musica pop e rock contemporanea e in generale nei codici espressivi contemporanei giovanili come tweet, post e selfie. Parola del professor Trifone Gargano. Dante non è un classico morto, un classico da museo. Dante è attivo nel senso che riesce ancora a ispirare cantautori, fumettisti, romanzieri, pittori eccetera proprio perché non è massa, non è farino. Uno pensa la Divina Commedia sono quasi 15.000 versi, quando li leggerò mai? No, Dante è lievito. Per usare la stessa metafora sua, Dante è quella poca favilla che gran fiamma seconda. E allora non tutto Dante è presente, non tutto Dante va a letto, ma ci sono alcuni versi, alcuni canti, alcuni personaggi che hanno ancora molto da dire e da dare. Gargano ha tenuto una lezione spettacolo dal titolo Dante Pop e Rock nel piazzale Piazzolla, nel cuore della villa comunale di Trani. Ha raccontato non un Dante pezzo da museo, ma ancora lievito, capace di influenzare, suggerire e ispirare gli artisti contemporanei. Gianna Nannini ha scritto 12 splendide canzoni su Pia De Tolomei, è quella che giornalisticamente noi oggi parliamo di femminicidio. Dall'inizio dell'anno ad oggi, sono appena pochi mesi, più di 20 donne in Italia per amore, fosse stata per odio, per amore sono state già ammazzate. Pia Senese e il canto quinto del Purgatorio sono appena 7 versi. Quindi basterebbero quei 7 versi a salvare gli altri 15.000, cioè andrebbero letti in tutte le case, in tutte le scuole, le università, i parchi, affinché a cominciare da me si possa diventare diversi e migliori con quei soli 7 versi. L'INA nel 1960, già famosissima, bravissima, bellissima, scrive questa canzone di divertimento, Una zebra poix, in cui cita, è la prima a citare, Dante e Beatrice. L'evento è stato organizzato dal Club per l'UNESCO di Trani, insieme alla sede di Trani della società Dante Alighieri, alla sezione FIDAPA di Trani e all'associazione Trani Nostra con il patrocinio del Comune. Un evento anticipato da iniziative digitali nate durante la pandemia. Abbiamo pensato di trasmettere il messaggio della Divina Commedia attraverso la radio dell'Unione Ciechi Nazionale, Radio Slash si chiama. Abbiamo cominciato a trasmettere tre volte alla settimana la lettura della sua traduzione in prosa della Divina Commedia, integrale un'opera mastodontica che non aveva mai compiuto nessuno, introdotte dai miei riassunti iniziali. E sono nati dei podcast che sono ascoltabili e pare molto seguiti, perché la poesia, soprattutto in quest'anno di anniversario dantesco, è trasmessa, il suono della poesia di Dante viene trasmesso attraverso tante letture comuni di attori, eccetera. Noi facciamo in modo di raccontarne la storia. L'opera del professor Gargano in questo è stata straordinaria. È un po' come le mille e una notte, si vuol vedere che succede dopo.